Cari amiche, nel video di oggi parliamo del difficile rapporto che c'è fra donne e pesi e cercherò di spiegarvi perché tutte le vostre paure sono infondate, subito dopo la sigla. Partiamo da un'evidenza scientifica. Non potete diventare grosse con i pesi nemmeno volendo. A meno che non facciate uso di testosterone per via esogena o altri farmaci. Vedete questa foto? Ecco, questa donna sì, si allena con i pesi, decisamente, ma fa anche uso abbondante di sostanze dopanti che alterano la fisiologia del suo corpo in maniera significativa. Ma allora, da che cosa derivano queste paure? Derivano da piccoli ma significativi errori nel lavoro con i pesi. Vediamone alcuni. Molte donne, dopo periodi di inattività completa e alimentazione casuale, decidono di iscriversi in palestra per risolvere la situazione. A questo punto, approfittando dei pacchetti, tutto compreso, delle palestre, iniziano estenuanti programmi di allenamento, a cui abbinano solitamente anche un'importante restrizione calorica, perché bisogna far presto. A questo punto, nel corpo, purtroppo, specialmente se abbiniamo anche un lavoro con i pesi, può accadere che i liquidi intracellulari vengano portati fuori dalla cellula. Questo come manifestazione di stress cellulare. Questo perché da un non allenamento si è passati a un allenamento molto intenso. Ripianificando il lavoro, invece, e facendo in modo che si lavori in maniera progressiva, adattando i carichi, l'intensità, il volume, al corpo della persona che si sta allenando, tutto questo non avviene. E quindi, questo gonfiore, che molto spesso si reputa essere responsabili, i pesi, in realtà è semplicemente l'eccesso d'allenamento. Un lavoro scorretto, sì con i pesi, ma che in realtà di cui i pesi non hanno colpa. Un altro motivo che può averti confuso, averti fatto pensare che il lavoro con i pesi ti ingrossa, dipende dal fatto che l'eliminazione degli inestetismi, come il grasso e il liquido extracellulare, di cui abbiamo parlato, sono più lente di quanto non lo sia la creazione di nuovo tessuto muscolare dovuto al lavoro con i pesi. Questo fa in modo che nel primo periodo, probabilmente, tu potresti osservare che i tuoi inestetismi sono aumentati. In realtà, dipende solo dal fatto che sotto si è creato un nuovo tessuto muscolare e gli inestetismi che sono a livello epidermico o sottocutaneo sono più evidenti. Purtroppo, questa è una situazione che si verifica, si può verificare, ma è transitoria, perché poi il lavoro muscolare farà in modo che il liquido extracellulare ritorni dentro la cellula, gli indicherà la strada per tornare all'interno della cellula e il grasso verrà eliminato grazie all'attività fisica e all'alimentazione corretta. Quindi è un fenomeno che purtroppo dobbiamo vivere, ma per un brevissimo lasso di tempo. Per spiegarti perché sia così importante allenarsi con i pesi per migliorare armonia e anche i processi di dimagrimento attraverso i pesi, realizzerò un nuovo video. Ti lascio con un'ultima informazione che riprende quello che ci siamo detti all'inizio, e cioè il testosterone. Il testosterone prodotto dalla donna è circa un decimo di quello che viene prodotto nel corpo di un uomo. Questo fa sì che, se l'uomo si alimenta in maniera corretta e si allena in maniera efficace, può aumentare di molto le proprie masse muscolari. La donna, al contrario, no. Quindi il mio consiglio è quello di allenarti con i pesi, abbinarli assolutamente a un lavoro di natura aerobica, perché sicuramente anche quello produce l'effetto di dimagrimento voluto, ma di cercare di trovare un'armonia tra queste due forme di allenamento, perché in questo modo otterrai il sistema migliore e più efficace per raggiungere i tuoi obiettivi di forma. In conclusione, quanto affermato in questo video non è frutto di mie opinioni personali, ma della ricerca scientifica più aggiornata in ambito di fitness e salute. Quindi, se vuoi conoscere i riferimenti bibliografici che ho utilizzato per realizzare questo video, scrivimi nei commenti, ti risponderò senz'altro. Se il video ti è piaciuto, lascia un like. Se pensi di essere interessato a contenuti come questo, che io pubblico settimanalmente sul canale, iscriviti. E aiutami a condividere questo video se pensi di conoscere qualcuno interessato a contenuti come questo. Ciao e alla prossima!